Più che una ripresa, sembra una ripresina, ma è già qualcosa rispetto agli ultimi anni. L'ultima indagine sull'industria retina che emerge dai dati congiunti di Camera di Commercio e Confindustria, riferita al terzo trimestre 2013, mette in luce un aumento di produzione pari all'1%. Purtroppo il dato del fatturato non segue la stessa tendenza, si registra infatti un meno 1,4%. Questo è dovuto soprattutto alla contrazione del mercato nazionale, mentre quello estero risulta in forte espansione con un più 6,9%. Gli ordinativi sono cresciuti dell'1,1% grazie alle commesse estere che sono cresciute del 9,4%. Le imprese retine sembrano dunque in grado di raccogliere le opportunità provenienti dai mercati internazionali. La quota di fatturato esportato supera complessivamente il 43%. Questi elementi parzialmente positivi non hanno però avuto grande impatto sull'occupazione, ancora con segno negativo, meno 1,2%. I settori da cui provengono i segnali più incoraggianti sono l'oreficeria, più 11,3%, il tessile, più 4,4%, macchinari, più 3,2%. In picchiata invece il settore del legno e dei mobili, meno 10,3%. Male anche le pelli e le calzature e un po' in generale tutte le attività manifatturiere. A faticare di più sono le aziende più piccole, quelle fino a 49 addetti. A ottenere i migliori risultati sono invece le aziende di grandi dimensioni, la loro produzione è cresciuta dell'8%. Consegno più anche il fatturato e gli ordinativi. Proprio queste imprese sono le uniche che riescono a fornire un contributo positivo all'occupazione, più 3,3%. Infine, per quanto riguarda il dato puro dell'export, per il manufatturiero va malissimo. Le esportazioni a retine sono infatti diminuite del 21,8%. Un dato che però non deve ingannare a far crollare l'export e soprattutto il settore orafo, che ha fatto registrare il 52,7% in meno dei flussi con l'estero. Se infatti depuriamo l'oreficeria dal dato generale, si scopre che le esportazioni sono cresciute del 18%. Uno spiraglio di sole inizia ad intravedersi, dopo una traversata nel deserto che ha decimato l'economia a retina.